Sono ridotte a vere e proprie mulattiere alcune delle strade principali del territorio giarrese. Le vie Don Luigi, Sturzo e Luminaria sono disseminate di voragini che rendono la viabilità una sorta di percorso ad ostacoli. Gli automobilisti sono costretti a compiere slalom per evitare consistenti danni alle proprie vetture. Circolare con i mezzi a due ruote significa invece sfidare la sorte. Dopo le ultime piogge il manto stradale già ridotto ai minimi termini sembra adesso un campo minato. La Nazionale è purtroppo solo uno dei tanti esempi. Nelle stesse precarie condizioni sono le vie Foscolo e San Matteo, solo per citare alcuni esempi. Ma l'elenco a questo punto è davvero sterminato e non si contano più le denunce di cittadini esasperati che continuano a subire danni alle proprie vetture e che chiedono i dovuti risarcimento al Comune. I fondi a disposizione dell'ente non consentono naturalmente i necessari tempestivi interventi alle strade comunali, lo sappiamo. E già lunedì inizieranno i consueti rattoppi che, sappiamo anche questo, si sbricioleranno già alle prime insistenti piogge. Urge però dare veramente inizio a questo punto agli interventi a lungo termine, dando precedenza alle strade a più alta densità di traffico.